benvenuti nel mio ostello il happy day hostel molto carino guardate la parte all'aperto quanto è carina io faccio colazione qui sono arrivata nella mia camera finalmente al happy hostel questo è il mio letto colazione della mattina risofritto alle 7 ok questo è il mio motorino sto cercando di arrivare verso le jiang vediamo quanto ci metto soprattutto se ci riusciamo sono dalla vale in ostello albergo qualcosa di simile trovarla stiamo per prendere un caffè in piscina carino no vabbè non si vede ma è carino siamo sulla spiaggia di leian però non ho capito come si pronuncia solo surfisti ok aspetta adesso guardate il nostro ospite ciao vale vale nel mondo dopo vi racconto urge comprare una colazione decente altrimenti quattro giorno con il riso fritto muoio quindi sto cercando il mio yogurt fondamentale e assolutamente dei cereali da poter utilizzare per me la cosa più importante scusate queste cose che cosa sono robe fritte ma questo ed altro in un supermercato a bali ciao sono nel ristorante biku di seminiak molto molto carino esaltata per quello che appena ordinato c'è anche il negozio che vende piatti tipici un attimo devo ordinare vi presento ciao giulia ciao giulia tedesca la mia nuova amica dell'ostello stasera mangiamo insieme ok ciao